Ciao Mario, ma sbaglio questa è la nostra Giulia Quadrifoglio? Sì, la nostra Giulia, però abbiamo fatto una modifichina, adesso ve la facciamo vedere. Metti sul ponte? 5 minuti. Come ne ho promesso prima, partiamo. Abbiamo un catalizzatore 200 CL coibentati, questo è sempre un nostro prodotto in collaborazione con lettieri, tutto acciaio, vedete anche le saldature come sono fatte tutte bene, abbiamo rifatto tutta la linea, abbiamo messo una Y qua in mezzo, uscendo abbiamo un silenziatore con valvole che purtroppo da qua si vede un po' poco e come vedete l'estrattore modello GTA, tutto in carbonio, però ha la particolarità di avere i tubi di uscita un pochettino più grossi, perché quelli della GTA ci sembravano un pochettino piccolini, comunque è molto simile come ben vedete perché la richiesta è stata proprio quella di fare un estrattore modello GTA.